Buonasera a tutti, sono Maria Teresa Tuccio dal Circolo Zenzero di Genova. L'incontro di stasera si inserisce nelle conversazioni sulla transizione ecologica che dal 2021 conduciamo al Circolo Zenzero insieme al Ecoistituto di Reggio Emilia Genova. Nella pagina dei nostri social potete trovare il link a tutte le conferenze che abbiamo fatto questi anni con relativa indicazioni per ritrovare la registrazione delle conferenze sul canale YouTube o sulla pagina Facebook di Ecoistituto. Il nuovo ciclo che ha preso il via due mesi fa si riferisce al nucleare, è dedicato al nucleare. Perché il nucleare? Perché da un po' di tempo si parla spesso di nucleare e naturalmente è nucleare da fissione, cioè spaccare l'atomo per ricavare energia con conseguente produzione di materiale altamente radiattivo, le famose scorie che ancora non si sa bene dove metterle e cosa farne. E materiale nucleare da fissione perché la fusione, a quanto si dice, continua ad essere una chimera. Sempre nominata, sempre fra vent'anni, fra trent'anni, ma sempre rimandata. Diciamo si parla sempre più spesso di nucleare. Si è parlato di nucleare l'anno scorso, quando l'Europa l'ha inserito nella tassonomia europea, cioè l'elenco delle attività sostenibili che possono essere finanziate e che sono considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. Si è parlato di nucleare nella conclusione della COP28 di novembre 2023 e nel recente G7 di Torino su clima, energie e ambiente, il nucleare è stato inserito nel mix energetico per affrontare il cambiamento climatico, cioè per sostituire i combustibili fossili e non produrre più CO2. I nostri politici tornano a parlare di nucleare in un modo con una superficialità a dir poco fastidiosa. In questo contesto si inserisce il film di Oliver Stone, Nuclear Now, distribuito alla fine del 23. Nella locandina che vi sto mostrando, che è inserita sui nostri siti, ci sono i riferimenti, il documentario presentato al Film Festival di Torino a novembre, poi stato acquistato dalla 7 e può essere visto andando sul sito della 7, cercando nella sezione Rivedi la 7, Nuclear Now, e c'è l'intervista a Oliver Stone e tutto il documentario. Il documentario di pura propaganda. Pura propaganda che a volte proprio uno si chiede come sia possibile sostenere certe cose, però vi consigliamo veramente di vederlo e magari farvi aiutare da queste conferenze che abbiamo organizzato per capire a me. Con questo ciclo di incontri abbiamo voluto appunto dare la parola a tre esperti proprio per parlare di questo film e con il loro aiuto cercare di non farci abbagliare dalla propaganda e di non cadere nell'inganno. Il primo esperto che abbiamo incontrato a marzo è stato Nicola Armaroli, il mese successivo abbiamo visto Mario Agostinelli e oggi è la volta di Ugo Bardi, già professore presso l'Università di Firenze e membro del Club di Roma, l'associazione fondata nel 1968 da Augusto Peccei, un economista, un visionario che per primo parlò dell'abisso che abbiamo davanti, denunciando l'impossibilità di una crescita illimitata in un pianeta finito. Nel 1972 uscì lo studio commissionato al MIT di previsioni su queste cose, lo studio era intitolato The Limits to Grave, un po' malamente tradotto come Limiti dello Sviluppo, dando origine alla confusione tra crescita e sviluppo che negli anni successivi si è più volte fa. Ma lascio tutto questo a Ugo Bardi, che forse alla fine riuscirà a parlarcene anche perché recentemente lui ha pubblicato un libro rivedendo le premesse di quel libro, di quello studio della società e verificando che sono tuttora validissime. A questo punto, prima di passare la parola a Federico Valerio, di Ecoistituto che condurrà la conversazione, vi ricordo che per la conversazione finale preferiamo che le domande siano scritte in chat e vi chiediamo la cortesia di tenere spenti le videocamere e anche i microfoni. Grazie a te Federico. Sì, ora tanto Ugo grazie di aver accettato il nostro invito. Quando ti abbiamo contattato tu ci hai confessato che tutto sommato parlare di nucleare lo ritenevi una specie di perdita di tempo e hai anche confessato poco fa che il film non l'hai visto. Posso dirti che però appunto Ugo, che il del film Oliver Stone ha diverse carenze e una di queste non parla della risorsa uranio. Ecco, con te volevamo, visto che di queste cose te ne sei occupato, che parliamo di questa cosa. Cioè questa materia prima, di produrre energia, quante ne abbiamo? È una risorsa appunto inesauribile? Insomma, dacci qualche informazione al riguardo. Beh, allora se mi sentite, grazie per l'attenzione, grazie Maria Teresa per l'invito, è un piacere esserci e posso provare a fare del mio meglio per dire quello che posso dal mio punto di vista, dalla prospettiva che io ho come membro del Club di Roma, come parte di questo gruppo di persone che studiano i problemi delle risorse, i problemi delle energie, i problemi della popolazione, i problemi dell'inquinamento. È tutta una cosa che studiamo, non tutti noi, perché i fondatori originali nel 1968 sono una persona molto anziana, e alcuni non ci sono più. Quindi comunque cerchiamo di mantenere la nostra attività, la nostra tradizione, i nostri interessi. Per esempio Aurelio Peccei, che citava Maria Teresa, non c'è più da diversi anni, non c'è più un'altra persona che era una delle spinte propulsive principali, che era Donella Medos, che forse avete sentito nominare. Donella è stata una grandissima persona, ha trovato una di quelle persone del ventesimo secolo che io credo prima o poi, un giorno diranno che il ventesimo secolo ha fatto tante guerre, ha fatto tanti guai, ma peraltro ha creato almeno tre persone estremamente in gamba che lasceranno un impatto sull'universo. Una è Donella Medos, l'altra è Eleanor Ostrom e l'altra è Lynn Margulis, che è quella che ha creato il concetto di holobionte in biologia. Ma non entriamo in questo discorso. Donella Medos non era una biologa, era una sistemista più o meno, la tradizione alla quale io personalmente mi rifaccio per quello che posso, cioè studiare i problemi dal punto di vista sistemico, che è più o meno l'opposto che studiare dal punto di vista politico, perché dal punto di vista politico consiste nel semplificare, trovare un nemico, demonizzarlo con una campagna propagandistica, dopodiché il problema non è detto che si sia risolto, però perlomeno il politico ha guadagnato voti e potere e purtroppo sta succedendo esattamente questo dal punto di vista del nucleare. Vedete, io vi rifaccio sempre da quello che diceva, spesso a quello che diceva Donella Medos, che era geniale, era eccezionale, che aveva detto, vedete, uno dei grossi problemi che abbiamo, il problema è il metaproblema, perché ci abbiamo dei problemi, poi abbiamo un problema di come risolviamo i problemi, chiamiamolo metaproblema, e lei, basandosi sul lavoro che aveva fatto il suo maestro, che era un signore che si chiamava Jay Forrester, che era il primo sviluppatore del concetto di pensiero dinamico, se ci riusciamo, pensiero dinamico vuol dire un pensiero elastico, pensiero flessibile, pensiero che si adatta. Lei diceva, il problema di noi umani è che quando ci troviamo di fronte a qualcosa, che dobbiamo cambiare qualcosa, perché qualcosa non funziona, il primo impatto, il primo tentativo è sempre, è una legge dell'universo, di muovere, spremere il sistema nella direzione che peggiora il problema. Questo ragazzi è un insight, è un'idea, è una cosa che se la capite bene vi aiuta molto nella vita, perché molte volte è la prima volta che uno si trova di fronte a un problema, questa cosa di Noella Medos mi ricorda sempre una cosa che mi insegnò un mio amico quando era adolescente, quando avevo, so, 16 anni, 17, parlavamo, dice, ma Gabriele si chiamava, Gabriele, ma com'è che tu le ragazze ce le hai e io no? E lui mi disse, dice, guarda, che sta sbagliando tutto, non devi rincorrere le ragazze, devi fare in modo che siano le ragazze che rincorrono te. Non so se funziona per tutti, ma è una cosa che a me è rimasta in mente da tanti anni e è quello che sta succedendo per il nucleare di fronte a un problema, un problema dell'energia, che succede? La prima riflesso dei politici, dei decisori, degli opinion leaders, di quelli che sono, quelli che vengono vagamente ascoltati, gli opinionisti dei giornali o gli influencer che vanno di moda, dice, ma inventiamoci qualcosa che è grosso, pesante, somiglia a quello che avevamo prima, ma magari funziona meglio, o forse fa più rumore o forse il fatto stesso che fa paura a tanti lo rende un pochettino più potente, una specie di Dio, ciao Finuccia, una specie di Dio del male che alle volte uno si trova quando è una situazione difficile, magari fa un sacrificio umano, come si usava in epoche remote. Allora, il nucleare è una tipica riflesso in cui noi stiamo spingendo il sistema nella direzione sbagliata dal punto di vista sistemico, indipendentemente dal fatto che il nucleare come tecnologia funzioni o meno, che sia efficiente o meno, che abbia dei problemi di inquinamento o meno, o che serva a certe cose o meno, cioè stiamo muovendo il sistema in una direzione in cui stiamo cercando di riprodurre qualcosa che avevamo già tra le mani, cioè un sistema energetico basato su alcuni mega impianti che producono energia, perché siamo abituati a quello, quindi stiamo cercando di rimanere nel solco. Ed è questa la critica che io, non solo io, molti di noi fanno alla questione nucleare dal punto di vista sistemico, che peraltro va detto anche che non può prescindere dal punto di vista tecnico, cioè se il nucleare fosse veramente poco costoso, inesauribile, bello e non inquinante, come alcuni dicono, dice Ugo, magari vai con i tuoi sistemi sistemici, è che purtroppo di fronte ai molteplici problemi che ci troviamo di fronte, ai problemi tecnici evidentissimi, ci accorgiamo anche che stiamo premendo una soluzione che non ha molta logica dal punto di vista tecnico, ma che magari potrebbe anche fornire un contributo, forse se non fosse che viene spinta in modo sistemico come se fosse salvifica e in questo caso fa dei danni. E a mio parere questo è il punto centrale della faccenda, dobbiamo chiederci politicamente se il nucleare è veramente quello che vogliamo, se siamo sicuri che lo vogliamo e di farci un'idea di quali sono i problemi politici che porta, perché i problemi alla fine dei conti nessuno di noi entrerà mai dentro una centrale nucleare per vedere di premere i bottoni o le leve come fa Homer Simpson nei cattoni animati. E quindi abbiamo molteplici questioni da chiederci e io ho fatto una piccola introduzione e poi vediamo e non si risolvono con un film per questo poi tu mi hai detto non l'ho visti ma onestamente onestamente non credo che un film pagato non si sa da chi da come per fare propaganda in una certa direzione sia molto interessante. Sì, il film aveva indubbiamente questo intento cioè convincere la gente che la gente non abbiamo si è rifiutata di avere il nucleare per paura però diciamo paura senza nessun come dire nessun motivo reale ragionevole. Con te volevamo appunto vedere allora questi problemi che stai da qui è staccennato quali potrebbero essere qual è la cosa che a questo punto dovremmo anche pensare per cercare di capire se questa scelta ci aiuta oppure no. E infatti poi siamo al prossimo punto che mi sta introducendo giustamente dopo che ho parlato di un problema sistemico chiaramente quando ci troviamo di fronte a questi problemi complessi che sono effettivamente complessi è molto difficile anche per gli specialisti stessi ora faccio una piccola digressione anche il problema climatico viene di solito discusso con gli specialisti fra gli specialisti e in modo specializzato e molto spesso ti accorgi che gli specialisti non hanno una visione sistemica cioè vedono bene certe cose non per dir male degli scienziati del clima che ne sanno tanta più di meno non pensate che Ugo Pardi venga lì a dire che ne sa di più di altri ma però alle volte ti trovi a dire ma sei sicuro diciamo no questo non ci avevo pensato e lo stesso per il nucleare il nucleare ti trovi per esempio a trascurare spesso due problemi che sono fondamentali che sono quello delle risorse e quello politico che è correlato perché la gestione delle risorse è un problema prettamente politico è un po' come quando parli del clima dice ma c'è solo il CO2 no c'è tante altre cose che non vengono con se ci si mette a litigare perché se il CO2 fa quel c'è un coefficiente che è coefficiente di quanto quanto il riscaldamento dà una certa concentrazione questa sensibilità climatica si sta a discuterne per mesi è diventata una specie di idolo tipo Baphomet quel dio cornuto lì quello che si adora dei film è lo stesso del nucleare si fanno grandi discorsi tecnici e tutto alla fine si risolve se avete fatto caso su un da una parte c'è quelli che dicono no non sappiamo dove mettere le score e dall'altra dice no il nucleare è poco caro buono funziona bene buono tappeto per non dire male di nessuno insomma vendiamo il tappeto o il o vendi questa o questo questo coso che ti vendo e manca un discorso sistemico perché una volta che tu metti su una centrale nucleare non hai costruito solamente un sistema che produce energia hai costruito un sistema che si interfaccia con tutto un sistema di rifornimento di risorse perché il nucleare si inserisce in un sistema di sfruttamento estrazione raffinazione produzione e fornitura di risorse di combustibile nucleare parliamo di questo quando entri in questo argomento entri in un argomento di cui non voglio dire niente di particolare però onestamente non se ne parla tantissimo non so voi che impressione avete fatto ma su questa cosa molto spesso la gente rimane un po' spiazzata dimmi se ne parla veramente poco quindi non credo che si sia la consapevolezza appunto di tanto di questa non c'è questa consapevolezza perché non si ragiona in termini sistemici purtroppo quando hai un coso non è che ti compri il nucleare lo metti in giardino e attacchi la spina non funziona entri in un ragionamento in cui lo devi inserire in un sistema di produzione di energia che è una questione di una complicazione politica politica spaventosa perché quanto uranio c'è una prima cosa mi domanda quando si parla di queste cose ma di uranio ancora ce ne sarebbe anche tanto non è quello il problema perché quando voi vi comprate il nucleare e lo mettete il vostro impianto perché ora va di moda gli impianti piccoli non si sa che vantaggi abbiano ma vanno di moda allora vi compro un impianto piccolino lo metto nel mio giardino però a questo punto devo andare su Amazon e mi vendi un 10 kg di uranio arricchito e non non c'è su Amazon l'uranio arricchito non ho provato a cercarlo devo dire provate voi ma forse non credo che ci sia e allora il problema non è tanto chi produce l'uranio che si produce in molti posti ma chi lo raffina perché la tecnologia è quella dell'uranio arricchito che è tutta una storia lunghissima anche quella sistemica che nasce da un discorso che tutti quelli che hanno fatto le centrali nucleari non le hanno fatte perché interessavano le centrali nucleari ma le hanno fatte perché volevano produrre la bomba atomica e per cui servivano degli impianti di arricchimento dell'uranio che le hanno potuti fare perché le hanno pagate i militari altrimenti non sarebbe mai costruito una centrale nucleare su questo pianeta allora che succede fate un po' di conti chi è che arricchisce l'uranio secondo voi datemi un numero quanti paesi ti vendono esportano diciamo uranio arricchito fatemi le bombe nucleari in casa o qualcosa del genere sì tutti quelli che non è detto però che lo esporti noi per esempio la Corea del Nord si arricchisce il proprio uranio però non lo esporta vorrebbe anche domandargli lo dico ragazzi ma avete mica un po' un cosina che vi avanza ma quelli che lo esportano ufficialmente regolarmente sono pochi sono tre o quattro la Russia la Cina la Cina lo esporta poco ma lo potrebbe esportare l'America l'Olanda la Francia e la Germania ma diciamo la Germania sta chiudendo non ne vuole quindi in realtà rimangono ce la scordiamo in qualche modo ce la scordiamo decisamente perché è un impianto di raffinazione nucleare diventa un costo chi nella condizione economica attuale veramente sarebbe uno dice quanto costa il kilowattora nucleare te lo dice fa tutto il conto ma non include il discorso che se volessi ottenere le indipendenze energetiche a mettermi al riparo dai possibili interruzioni nella fornitura dell'uranio a quel punto dovrei farmi un impianto di arricchimento che in ogni caso non lo faremmo non lo potremmo fare non ci sarebbe data questa possibilità perché l'arricchimento dell'uranio gli impianti di arricchimento sono una questione strategica e non si non è che te lo puoi fare diciamo ho deciso e me lo faccio in casa no probabilmente no forse troveremmo il modo ma quindi attenzione ci sono delle cose politiche estremamente interessanti che non so se l'avete letto ma non se ne è parlato in Italia almeno non mi è parso che l'America cioè il presidente Biden ha firmato due giorni fa e sono cose che avvengono un decreto in cui proibisce l'importazione di uranio arricchito dalla Russia sapevate questo? non lo sapevate vedete dietro le quinte c'è tutto un movimento in cui avvengono cose perché la Russia ha quattro impianti di arricchimento e è quella che produce più uranio arricchito al mondo e che cosa succede? gli americani se andate a vedere non hanno la capacità di rifornire le loro centrali non ce la fanno ci vuole un buon 20% di quello che gli americani importavano è uranio fatto in Russia uranio arricchito scusate fatto in Russia allora attenzione viene fuori delle cose che veramente non escono fuori ma ci sono leggete il decreto firmato da Biden e dice sì dice però è proibito a meno che non ci sia un interesse nazionale strategico di importarlo a quel punto c'è una legge bizantina che potrebbe fare il nostro governo cioè non lo può importare però se non ha bisogno non lo può importare non entriamo in questo argomento però vedete che vedete la serie di ragionamenti che nascono sulle varie cose la Francia ha i suoi impianti ma non produce tantissimo l'Olanda li sta producendo e quindi se un paese nuovo si vuole affacciare sul mercato nucleare bisogna in qualche maniera che comincia a programmare perché dove lo trovo questo uranano chi me lo dà che non è affatto detto anche l'uranio normale tu vuoi darci qualche elemento per capire un po' meglio le miniere d'uranio dove sono le minerie sono in tanti posti sono l'Afghanistan in Russia in Iran in Congo in America in certi possedimenti della francese e della guiana francese ci sono molteplici miniere che che sono sfruttabili però ripeto l'uranio te ne puoi fare non puoi produrre quanto ne vuoi ma se non lo arricchisci non ti serve non è una tecnologia attuale ci esistono anche delle tecnologie che non usano l'uranio arricchito ma quelle tecnologie per ragioni che io non vi so dire sono state abbandonate ormai da diversi anni esisteva una tecnologia ad uranio naturale che non esiste più non so perché onestamente io me lo domando se qualcuno di voi ha un'idea del perché ciò avvenga però non ve lo so sia avvenuto non ve lo so dire il reattore sviluppato in Canada che si chiamava il Candu Canadian Deuterium Uranium andava ad acqua pesante e quindi e quindi la situazione di estrema complessità con la Germania che abbandona quindi probabilmente non raffinerà nemmeno più l'uranio questo vuol dire un deficit di produzione di uranio però da quel che si capisce sembra che li venderà agli impianti all'Olanda la quale andrà a vendere l'uranio arricchito a chi lo vuole e comunque la situazione è estremamente delicata perché se tu sei entri lì adesso ti trovi a dipendere da 5 5 supply la situazione è molto diversa da quella del petrolio o del carbone si petrolio è un mercato globale c'è tanta gente che vende ci sono delle risorse qui con questi 5 quali non è detto che ti lo vogliano dare cioè non c'è nessuna regola nessun mercato planetario che ti dica guarda l'Italia ha detto ha bisogno di uranio si dice ma noi perché te lo dobbiamo dare oppure te lo fanno pagare a prezzi a prezzi fuori di quello che ti puoi permettere di pagare la situazione dell'Italia se avessimo delle centrali nucleari sarebbe molto simile a quella della Spagna la Spagna ha uno dei pochi paesi che ha centrali nucleari ma non ha centrali di arricchimento e la Spagna se la cava perché ormai sono a giro fanno da tante nucleare ha un'agenzia apposita governativa che si occupa di contrattare la fornitura di uranio arricchito e quindi dovremmo fare la tua idea la tua idea delle prospettive che appunto possiamo avere con questa scelta quanti anni abbiamo di fronte da poter affrontare con questo sistema come diceva diceva giustamente Maria Teresa e la superficialità con cui questi problemi vengono affrontati è spaventosa cioè è una cosa che ti fa ti fa paura cioè arriva il primo politico e ti dice l'urane è bello l'urane è buono mettiamoci a fare centrali nucleari ma è chiaramente una forma di propaganda in cui il politico non sa bene che cosa sta dicendo onestamente se veramente andassimo su una problematica di dipendenza importante da centrali nucleari non è che uno dice mi compro un impianto potrebbe anche succedere non vedo niente di male se il governo italiano decidesse di comprare un impianto due nucleari alla peggio ha sprecato qualche miliardo di euro cosa che vengono sprecate in cose a mio modesto per parere anche ben peggiori capisci cosa voglio dire ma ma insomma non è risolutivo diciamo che non è risolutivo sarebbe una cosa così per dire vabbè abbiamo un impianto nucleare anche noi ma non risolve nessun problema secondo te come potrebbe uscire insomma qual è la tua chiamiamola visione insomma all'interno di questa tua visione di sistemi complessi che ovviamente è uno dei problemi fondamentali hai un'idea ce la potremmo fare uscire a superare come dire a evitare il collegamento che a te piace molto ti ne parli molto nei tuoi scritti sì sì ma vedi sono già diversi anni che lavoriamo con vari colleghi che hanno capito questa complessità del sistema cioè non è che tu dici prendo tale tecnologia e risolvo il problema è una tipica semplificazione politica il politico dice quello è il nemico ammazziamo che tutto è a posto quando va male quando va un po' meglio dice questo è quello che ci serve tagliamo il nastro e poi abbiamo sistemato il problema la questione che una buona frazione degli dei ricercatori in campo energetico su cui stanno lavorando stiamo lavorando io faccio il mio quello che posso con altri colleghi che facciamo degli studi e già diciamo sono una buona decina d'anni in cui abbiamo cominciato a lavorare sulla transizione su modelli sistemici della transizione cioè non è che ci sono miracoli che arrivano tu devi cominciare a programmare dicevo levo una certa cosa che non voglio mi muovo in una certa direzione introduco un'altra tecnologia e comincio a a programmare o perlomeno a rendermi conto di quello che potrebbe succedere da qui ai prossimi almeno 5-10 anni cosa che si fa in Italia non è che non si faccia perché tu vedi quale potrebbe essere allora scusate il percorso su cui avete stato lavorando stiamo lavorando sull'unica possibilità in questo momento che abbiamo di uscirne fuori vivi da questa situazione che è un potenziamento dell'energia rinnovabile massimo potenziamento dell'energia rinnovabile elettrificazione di tutto quello che possiamo elettrificare e efficientare quello che possiamo efficientare chiaramente la cosa è possibile perché ci i vari programmi con cui lavoriamo alcuni io sono uno dei tanti ricercatori che lavorano in questo campo ma ti posso dire che stiamo uscendo ora con un articolo che abbiamo che stiamo pubblicando con dei colleghi finlandesi dei colleghi tedeschi che fa una specie di review dei vari modelli tutti i modelli questo modello cosa dice quell'altro modello cosa dice ed è interessante che i modelli sono moderatamente ottimistici anche perché sui modelli i politici non ci mettono le mani per fortuna è vero i modelli ci parlano se qualcuno i modelli si dicono guarda se lo voleste veramente fare entro il 2035 potete affrancarvi completamente dal petrolio io non ci volevo credere ma sono modelli fatti da persone serie non da modelli non inventati così sarebbe possibile solo rinnovabili solo rinnovabili e l'elettrificazione e l'efficientamento diciamo più elasticamente dovremmo poterne uscire entro ma entro il 2050 credo che sia credibile sia perfettamente credibile che noi arriveremo a zero energia fossile ma forse anche prima se vogliamo veramente fare il 2040 non è un bersaglio impossibile e a zerare totalmente tutti i combustibili fossili fra i quali io personalmente includo anche l'uranio perché anche l'uranio lo possiamo definire come un combustibile fossile nel senso che è stato creato da processi che oggi non esistono più e quindi un fossile rimasto non si crea più che cosa vuol dire che la possibilità c'è per esempio vi faccio una cosa e mi ha stupito e mi ha veramente fresciato come si dice oggi che i dati della California la California si è messa seriamente a lavorare sulle batterie per lo stoccaggio dell'energia rinnovabile e vedete i risultati in tre anni cambiamento nettissimo delle curve di produzione che prima avevate un picco e poi un deficit in tre anni sono riusciti ad arrivare a questo picco che si diventa piatto si appiattisce e poi quando c'è il deficit vedete che viene sulle batterie che pareggiano il deficit non sono ancora in grado in California di arrivare al 100% rinnovabile ma in tre anni comincio a vedere le batterie portano su un buon 5-10% dell'energia non so se vi rendete conto le energie elettriche ovviamente non altre forme ma se in tre anni riesci a fare una cosa del genere vuol dire che veramente hai in mano le leve per muovere il sistema soprattutto con queste nuove batterie che stanno avendo fuori adesso le batterie al sodio che non sono una tecnologia adatta per i veicoli ma sono eccellenti per lo stoccaggio quindi e quindi se ci vuoi investire sopra se lo vuoi fare lo puoi fare e tutti dicono ma il nucleare come dici scusate perché la California ha deciso di fare certe cose e non altri in altri posti stanno facendo cose simili in Svezia Finlandia Norvegia loro hanno altre possibilità per esempio si basano sull'idroelettrico noi abbiamo condizioni di insolazione simili a quelle della California quindi potremmo fare come la California volendo ci vorrebbe diciamo una politica un tantino lungimirante che se andasse al sodo dei problemi comunque vi avverto sto parlando male dei politici ma c'è un'infrastruttura anche dietro la politica che non è fatta di politica che lavora su questi argomenti abbiamo comunque noi degli enti che governativi che lavorano sulla pianificazione di queste cose non siamo nudi e crudi parlare dell'Italia scusami dell'Italia rimbomba incredibilmente non ti sento mi piace vabbè io ti sento riprova quindi in Italia stavi parlando che sono queste queste enti governativi che stanno lavorando l'RSE l'RSE ricerca energy research energy ricerca sistemi energetici l'RSE è una branca del GSE che si occupa di questa pianificazione anche dell'introduzione dei veicoli elettrici della gestione della rete delle previsioni a medio e anche lungo termine cioè esiste questa capacità di pianificazione che però non viene fuori nel dibattito normalmente perché quelli che ci lavorano pubblicano sulle riviste scientifiche scrivono tante belle cose ma non appaiono facilmente perché anche poi se ti azzardi come faccio io ogni tanto a pubblicare qualcosa su un quotidiano poi ti trovi dietro un milione di troll che ti insultano fino alla quinta generazione e cose del genere e tu sei ottimista tutto sommato? abbastanza abbastanza ottimista nel senso che se non lo facciamo sarà solo colpa nostra se non perché non lo abbiamo voluto fare noi cosa possiamo fare allora anche noi cittadini comuni su queste cose? individualmente abbiamo destra opinione non è che uno può fare noi dobbiamo semplicemente cercare di seguire cioè non quantomeno non andare nella direzione opposta e questo vuol dire non farsi incantare dai vari film quello che ti dice nucleare bello non ci sono soluzioni semplici problemi complessi ricordiamoci sempre ricordiamoci quello che diceva Donella che diceva sempre state attenti che la prima cosa che andate a fare è sempre premere le leve nella direzione sbagliata e quindi se teniamo duro non ci facciamo imbrogliare perché c'è gente che sta cercando di imbrogliarci tanto ringrazio enormemente di questa precisazione che noi tutti tanto noi non siamo proprio semplici cittadini perché in qualche maniera come istituto mi pare che si raccolga il meglio del possibile sulle questioni dirimenti una di queste è fondamentale poter dire e far sapere alla gente che ne sa meno di noi le motivazioni per cui nucleare no io chiedo al professore se ci potesse mandare una volta si diceva una velina dove sinteticamente si spiega perché no e le alternative che sono quelle che noi tutti stiamo cavalcando portando avanti quella che appena detto che in California va alla grande se fosse possibile avere questa documentazione perché noi dobbiamo dare alla gente delle risposte dai esperti che non sono io che faccio uno psicologo che cerco di imparare un po' di cose volta per volta su questa nuova materia quindi questa è la domanda questa è la domanda te la posso vedo se te la posso trovare ma la questione vedi ci sono molti articoli scientifici che che spiegano queste cose effettivamente capisco che hai perfettamente ragione a dire che molto spesso queste cose che raccontano i professori universitari tipo io sono non escono dai dibattiti fra professori universitari e quindi e quindi e quindi ci vorrebbe ma è difficile perché qualsiasi cosa tu faccia ti trovi a essere in difficoltà nel cercare di passare certe informazioni che per te sono abbastanza ovvie e che poi infatti ti sto cercando questa immagine dell'effetto delle batterie sulla sulla rete della California ma non riesco ora a trovarla perché mi hai preso di sprovvista ce l'avevo qualche ieri ma ora bisogna che ci lavorassi sopra quindi la quantità di informazioni che ti arriva su web è gigantesca ma io credo che non sia poi troppo difficile trovarsi nella condizione di poter ragionare su su dei dati che bene o male se uno li vuol cercare riesce anche a trovarli e non è poi così impossibile e quindi facciamo il possibile ma un dato per esempio recentissimo è che l'energia rinnovabile la produzione di energia rinnovabile ha superato da qualche anno la produzione di energia eccola qua l'ho trovata l'ho trovata guarda che bella eccola qua eccola qua vediamo se riesco a condividerla vediamo un attimo eccola vedete qui allora la state vedendo? si allora vedete questa qui a me ha fatto veramente impressione che questa immagine qui a sinistra è del 2021 questa è del 2024 sono passati tre anni soli vedete l'effetto delle batterie vedete qui è impressionante e non è che uno dice faremo 50 anni in tre anni e sono ora lì se a questo ritmo vuol dire che in tempi non lunghissimi tu puoi mettere su dagli altri tre anni dagli altri cinque anni dagli anni dieci ma in in tempi ragionevoli puoi mettere su un buffer dell'energia prodotta dal dai pannelli solari che ti spiaccica la produzione per quando ne hai bisogno ecco ma abbi pazienza quando io ti chiedo da esperto di fare questa sintesi la sintesi che ci consente di dire in 4 4 10 20 parole no a nucleare per queste ottime ragioni e le altre buone ragioni per l'alternativa se un esperto ci mette le mani e ci manda sta documentazione noi a nostra volta allarghiamo la platina vediamo di fare il possibile ti manda ok promessa te la mando appena c'ho due minuti rifletto qualche giorno vedo di mandarla a Federico a Maria Teresa la mettiamo sul sito abbiamo scritto degli articoli interi di questa cosa che sono un po' complessi va detto sintesi sintesi va bene va bene va bene grazie 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 mi pare che Pinuccia abbia un'altra domanda o sbaglio Pinuccia ha scritto regolarmente in chat e ringrazia per la bella relazione condivide tutto sulla transizione ecologica e sarebbe interessata la questione batterie per le auto dunque la questione ma che cosa ti interessa in particolare Pinuccia no sapere appunto siccome uno degli elementi critici è proprio quello si dice che le batterie per le auto sono problematiche sono critiche volevo sapere lo stato un po' dell'arte perché mentre per le batterie per uso stoccaggio hai parlato appunto ampiamente ed è interessantissimo quello che hai detto così mi interessava l'altro versante cioè sapere se finalmente c'è un futuro c'è un'altra regola che Donella Medos non ha detto ma che l'ha detto qualcun altro ma non so che puoi togliere la condivisione per favore si scusa hai ragione hai ragione stop share eccomi qua grazie un'altra regola della vita è che la propaganda riesce sempre a prendere dei pregi e trasformarli in difetti non so se avete notato questa cosa quindi quello delle batterie che non si sa dove metterlo ora che sto andando in giro in questo periodo a far vedere il mio libro sui veicoli elettrici che non mi appare perché eccolo una domanda che mi fanno tutti dice ma le batterie dove le mettiamo non è che mi fanno questa domanda perché sotto casa sono trovate una montagna di batterie che non potevano uscire di casa me la fanno perché la propaganda ha sparpagliato questa idea che le batterie inquinano il che è esattamente gli elementi della tecnologia con cui lavoriamo oggi le batterie per veicoli sono quelli meno inquinanti di tutti perché sono oggetti che sono massicci non sono gassosi non si spagnano per l'ambiente e si possono riciclare e uno dei punti dell'economia circolare uno dei pochi che funziona bene e funziona bene da almeno 50 anni è il riciclo delle batterie dei veicoli perché le batterie sono oggetti come vi ricordate in una certa dimensione non li trovi buttati nel fiume perché perché c'è un sistema che li ricicla quindi non conviene buttarli nel fiume perché se li dai al tuo elettrauto il quale comunque li passa in giro in un sistema di riciclo che se ci fate un po' di conti negli ultimi cent'anni quanti veicoli sono stati prodotti e uno ogni veicolo aveva almeno una batteria quindi si parla di 10 miliardi almeno 10 miliardi di batterie al piombo quindi una per persona in tutto questo pianeta ma non ci sono discariche di batterie al piombo perché non ci sono completamente riciclati oltre il 95% di efficienza nel riciclo delle batterie al piombo per il momento le batterie al litio hanno ancora qualche si sta andando a regime perché sono una cosa nuova non ci sono ancora le facilities per riciclarle ma d'altra parte non serve a nulla avere in questo momento impianti di riciclaggio per delle batterie che non sono ancora state scartate e quindi ci andiamo a regime nell'ambito di un certo numero di anni in cui ricicleremo le batterie al litio sperabilmente con la stessa efficienza con cui abbiamo riciclato negli ultimi 100 anni le batterie al piombo ovvero il 95% al minimo e quindi direi Pinuccia ti basta questo come assolutamente sì ma quanto durano le batterie al litio ma le batterie al litio è anche quella una tecnologia nuova quindi non lo sappiamo abbiamo dei casi di persone hanno fatto 600.000 km con un set di batterie senza perdere molta energia poi dopo una volta che la batteria tu ritieni che ha perso il 30-40% e non la usi più nella tua macchina la rivendi a uno che invece la usa come stoccaggio come fanno in California che anche se hai delle batterie più vecchie meno buone non te ne importa le paghi poco ne metti un po' di più e va bene avrai una richiesta di intervento da parte di Ernesto Salomoni che saluto ciao ciao Maria Teresa ciao e mi presento un attimo io ero compagno di corso di Maria Teresa ci siamo persi molto ha avuto un grande onore che a me è mancato quindi sono un giovincello un giovincello che poi ha abbandonato la ricerca all'università ha passato la maggior parte del tempo nell'industria siderurgica in ilva eccetera ed altre aziende private per il mondo ma poi fino a verso il 2003-2004 e poi mi sono occupato anche di sviluppo di ricerca abbiamo siamo stato socio nel creare la Columbo Superconductus che produceva i cavi superconduttivi la liberura di magnesio poi soprattutto insieme a Enrico Zani e P. Enrico Zani che voi forse conoscete la maggior parte abbiamo fatto il progetto per costruire una fabbrica di pannelli fotovoltaici per l'Agnosolis che poi è stata fatta e attuata da noi insomma io ero la ministra delegato e che poi è finita è finita diciamo alla fine con il Covid gli ha dato la botta finale prima del recupero va bene scusate era questo per presentarmi visto che non sono mai partecipato non ho mai partecipato speravo di venire fisicamente oggi ma non ce l'ho fatta sul nucleare che mi appassiona sempre perché in teoria ricordo Maria Teresa almeno io ho una laurea in fisica elettronica nucleare si chiamava così allora una cosa che non so se avete discusso prima perché sono arrivato anche in ritardo è i tempi di realizzazione di un impianto nucleare riflessione in Europa negli ultimi vent'anni dal 2020 se ne avete già parlato mi taccio ditemelo l'avete già fatto oltre al discorso come come non oggi ma non passate incontri però ricordavi io citavo qualcosa perché ho fatto io ho fatto quello che qualcuno di voi chiedeva prima ho fatto anche delle presentazioni per innovabili nucleari in cui ho sempre bocciato il nucleare nonostante la tradizione che sia nucleare di origine e quindi mi sono occupato di questo ma voglio dire in Europa oggi tutti chiudono le fabbriche ma quelli che hanno tentato di costruirli dal 2000 messo in programma ce n'erano due c'era o qui l'uoto in Finlandia 1600 megawatt no e sapete quando prima pietra non non progetto prima pietra di costruzione nel 2000 esattamente nell'anno 2000 è partita l'anno scorso la fine del 2022 inizio del 2023 ancora forse non a regime dopo avere speso anziché 10 miliardi circa di costo contro 2 o 3 miliardi di costo l'altro progetto in Europa sto parlando in Europa sempre occidentale l'altro progetto era Flamanville forse più noto in Francia eppure lui partito nel 2000 non è ancora avviato è ancora lì che lavora che che diciamo discutono modificano spendono da un progetto di 3 6 miliardi iniziale sono già verso i 20 miliardi spesi e non si vede luce di quando potranno realmente produrre almeno che ci siano stati sviluppi negli ultimi mesi voglio dire se uno parla dei nucleari oggi anche a livello politico tu sai e parti da zero in un paese che non ha più le strutture non ha più la ricerca non ha più gli esperti non ha più niente io parlo attenzione Francia e Finlandia hanno tutte le tecnologie hanno nucleoti centrali eccetera e hanno fatto questi progetti solo in siti già nucleari già nucleari a 1,8 kg ci sono dei reattori in funzione da decenni e come pure a Flamanville quindi non in siti nuovi in Italia 20-25 anni di kilowattora non se ne vedono prodotti sul nucleare forse tra le cose che qualcuno chiedeva bisogna che le diciamo ben chiaramente queste cose quando sento dire che nel 2030 avremo il nucleare a fusione mi sembra che sia una cosa di una follia tale che non sai neanche cosa rispondere ma però ma anche in fissione cioè i principali paesi che sono esperti di nucleare hanno le centrali eccetera in 20 anni sono praticamente riusciti a far partire un'impiata per le nuove regole di sicurezza giustamente eccetera e spendendo delle cifre colossali io dico da solo questa cosa qua dovrebbe spingere i nostri governanti se qualcuno riuscisse a farglielo capire io con qualche partito cui sono in contatto ho cercato di farmi ascoltare ma non ho mai ascoltato nessuno se devo dire ho scritto però voglio dire questa è già una cosa poi ovviamente ci sono la storia mi fermo qua però voglio dire questa è la dimostrazione che è difficile fare il nucleare non è che sia che dice così Ugo ci deve lasciare scusami ho finito ho finito questa mandata mi hanno incastrato in questa serie di webinar non è sempre così non sono così tutti i pomeriggi una cosa che scusa Ugo una cosa che si aggancia a questo che ha detto Ernesto e che mi piacerebbe sentire la tua opinione sono i piccoli reattori nucleari perché è l'innamoramento del momento con Salvini che dice me lo metterei in giardino oppure i grandi cloud che dicono potrebbe essere la soluzione per il bisogno di energia io credo che anche quello sia un grosso bluff che non lo compri su Amazon però stavo guardando ora su Amazon se ti vendono vi posso confermare che non ci vendono ma anche a me hai fatto venire voglia di controllare però mi farebbe piacere sentire la tua opinione su questo io mi rimango su uno scetticismo piuttosto generico perché a questo punto se parli con un ingegnere nucleare che sa di cosa parla ti potrebbe ragionare che un impianto piccolo ha dei vantaggi rispetto a un impianto grande ora io da quello che sapevo fino a essendo io un ingegnere nucleare si era sempre detto che gli impianti nucleari grandi erano meglio per tante buone ragioni ora l'idea che gira adesso è un impianto nucleare che avevi in mano che lo compri te lo portano e te lo installi nel giardino di Salvini come vedo qui nella chatline però di Salvini ma anche dell'ex presidente del Rina non solo di Salvini perché anche è una persona genovese di altissimo livello sì diciamo che non ci crederei troppo su questa cosa che questi piccoli nucleari però ripeto non sarebbe impossibile che il governo italiano decida di installare un piccolo numero di centrali io non perderei troppo tempo a fare guerre a quelli che volete fare avete voi soldi un piccolo numero di centrali vuol dire piccole scorie che sono altrettanto pericolose quanto le grandi scorie sì sì no ma sono tutti problemi sistemici il problema ripeto non è fare una centrale e farne due all'epoca di Berlusconi dicevano facciamo quattro vi ricordate che erano tutti impianti grandi quindi non è che quei quattro impianti se oggi ci fossero cambierebbero molto le cose saremmo inseriti in tutto un giro di movimento di uranio arricchito di problematiche anche strategiche perché una volta che tu ti metti un tuo impianto nucleare sul territorio lo devi difendere da attacchi strategici anche questo è un punto non viene mai fuori ma non è che tu lo puoi costruire che ne so qui vicino a casa vostra qualcuno vi tira una bomba sopra non sappiamo che cosa succede quindi c'è tutto un sistema di difesa strategica da un attacco alla centrale che è un costo in più anche quello che va considerato allora mi dovete veramente scusare non vorrebbe se continuate la discussione vedo che avete anche delle belle competenze che mi ha fatto piacere sentire io vi ringrazio moltissimo volevo se avete un minuto anzi ancora qualche minuto tanto arrivo cinque minuti di ritardo come le persone importanti arrivano sempre citate e meno male che non vi succede spesso volevo solo citare una cosa per finire questo discorso che ho avuto la possibilità alcuni anni fa quando abitavo in California perché si parla di California di conoscere il dottor Lone che era un cardiologo che aveva fondato l'associazione dei Physicians Against Nuclear War in cui si discuteva tanto di nucleare perché bene o male signori comunque la volevate mettere al momento in cui si parla di nucleare per la pace pacifico piccolino tutto quello che vuoi nel mio giardino lo tengo sotto c'è sempre di mezzo la guerra che viene fuori le centrali nucleari sono un'entità che è nata da applicazioni militari quello che si chiama uno spin off in questo caso potremmo usare il termine fall out che però l'ho sostituito poi da termine spin off uno spin off dell'attività nucleare quindi non lo potete ignorare e mi fa piacere citare il lavoro del dottor Lone che ci ha lasciati tre anni fa ma che ancora riverbera per la pace per per questa cosa che ora è tornata provvisamente di moda la guerra nucleare che prima non se ne parlava più e quindi abbiamo anche questo questo ce ne mancava e quindi vi ringrazio moltissimo e scusate se scompai grazie 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 Federico la prossima volta spero di poter stare un pochino di più va bene grazie a te grazie a te grazie mille arrivederci grazie 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 a tutti ricordo la promessa va bene va bene va bene la manda Federico a Maria Teresa grazie grazie la registrazione sui nostri siti arrivederci a tutti che bello